This beta is playable until September 8th Giusto? Ho detto, sto leggendo il coso in inglese This open beta is playable until September 8th Giusto? Ok Ho invaiato qualcosa Che legge in inglese però vabbè Vai, viva me Prima kill per il sottoscritto Eh zitto, guarda che tanto ti ho fatto Lo sai che se io non faccio una kill fra poco iniziano a partire tante parolacce Porca Bene, così facciamo più views Guarda quando non registri il giochino è bene Quando che non registri, quando che sta registrando Anzi no No, non fammi far più guarda e merda Ma tipo questo errore incognito Sto sparato a tre ore Non moriva e alla fine l'ho dato il corpo a corpo Ma non mi ha posto resistenza Sembra come se non ci fossi Allora Se non uccido nessuno Emanuele si arrabbia Chi cazzo mi sta spostando? Ah, bugare armato Ah già la goddana Ehm Salve Mi chiamo Emanuele Ho vent'anni E ho cecchino Ma che cazzo stai agendo? Salve Mi chiamo Federico Ho vent'anni E non so Ti cazzo Ma che cazzo stai Cicciolina Cicciolino Cicciolino anzi Adesso Si fa sul serio Ecco Carletti è morto Mo fe Se facciamo i seri youtuber Se questo video Arriva a mille Carletti? E si arriva a mille like Ascio si compra avanti il build 1 E la la E la la Minchia Mille like però Efe Quindi vuol dire che Ciao core Ciao A massimo arriveranno a duce Aspetta a te vaffanmi Hai visto che c'è un altro in squadra? Si chiama PEGIA PEGIA Che cazzo è PEGIA PEGIA VIVA LA PEGIA Sotto questa PEGIA LA PEGIA 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 CHECCHINO SENDO A FIGIA PEGIA Tu sia normale proprio E vabbè Ha preso tutto dal maestro No C'è il carro E qui come faremo a fermarlo? Ci fa il culo Via E vaffanma Gli vado su con la baglionetta Gli fai bau Senti lo Senti lo si te che stai strilla come una checca Che cazzo lo senti? Oppure fai una cosa Sai cosa? Eh Oppure Alzi la scella Ora sono un cannone letteralmente proprio Sì fra un'ora arriveremo là Senti Brum brum Ma da facca Ah Non c'entra Sì tu spara Con quello sta là sopra Dove? Vedo una sega con sto fregno Ah ecco qui si può cambiare la visuale Non vedo un cazzo Oh c'è il carro Porca puttana Fammelo mirar bene Do cazzo vai Se stava il carro nemico Dove? Dove? Dietro al culo Ah Eccolo Vedi cambio il cannone Cambio il cannone Cambio il cannone Ma non lo Non riesco ne a camminarlo Il tuo cazzo sta eh Che cazzo sta eh Che cazzo sta eh Ma aspetta ora ce l'ho Ora ce l'ho E non mi spara L'ho mancato Via 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 Ma il cazzo Mamma Te beccate questo Io piccio sull'agliuola Perché non già corona L'agliuola No il carro c'è la con me Ah no Non mi sta puttana Mi sa metterla con te carlet Chi è che ha messo Il froscio da dietro Porca troia Un froscio da dietro Ah un duro consiglio eh Se lo piazza bene So cazzo Tocca andarvi sinnescala E stiamo qui a cazzeggiare A me mi hanno dato fuoco Eh te fia di questo Senti io c'è ando Curami Grazie Ti ho curato Sei morto? Sì Boh aspetta fammi vedere là Ecco Grazie 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 piccolo ascio Ti lo votando Ok l'ho ucciso pure l'ho ammassato Mamma No Non mi spara bastardo Non mi devi sparare Perché sono bello da vedere Non privarmi Tu sei bello? Non devi privarmi Del dono della vita Perché su Butterfield Abbiamo il dono della vita Perché me lo devi privare? È troppo È troppo Eh troppo Comunque c'hai Quello che sta a fare sneaky sneaky Te l'ho ammazzato sneaky sneaky Sembra Ciao Mi chiamo Anuere Adesso in squadra ci abbiamo quark 1994 Non posso mettere questo video online Ma Più ti penseranno che sono nubo Ma tu sei nubo Ma tu sei nubo Veicolo di 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 Ma hai fatto uno nove? Ammazzandosi fuori Ma non hai giunto il spreado Che hai detto? Grazie Il spreado Parlano meglio gli iraniani che stanno lì che tu D'Iraniani Vieni è hunare Il sparo Inovanami Guardi Vieni che fino a che scoprono Eh no ma chi ha parmi? Che palle Nella World Vita Vita piccolo Che dole poi inkerate Chi è che ci sta a sparàààààààààààààààààà uno l'ho ammazzato ok levale che sto a vedere lo culo ho danneggiato il carro c'è dove andasserti ma sei morto pure tu perché invece non mi può rianimare come facciamo a sopravvivere c'è stargazza ti guardo sulla maschera ah ci sanno le scorreggie ho fatto una kill dai sto condendo però mi ha ammazzato il carro da dietro pure i carri soffrosi adesso senti un po ma hai cambiato da hz zombie line a hz iolo eh eh perché solo perché zombi danno se ti ricordi sull'account della plema l'avano bannato ah ecco e io invece sembra il nome della merenda sembra tipo le girelle delle io io quelle robe lì provate le brave hz iolo buonissime al ciuccolato fanno diventare grasso come i carletti vabbè vabbè non c'ho visto il carro quando è grande quel carro c'è sta un carro abnorme qua sotto vai ma ma sta a sparare non muro perché c'è il carro non muro guardalo oddio ma lo personaggio mi è morto con lo manganello in mezzo alle gambe sembra che c'è un pene enorme che bello abbiamo perso che brutta partita ma se ne registro paolo erano registrati due che abbiamo fatto i coglioni e ho fatto schifo se ne registro una che faccio belle kill faccio un bel montaggio è un bel montaggio arrivo le ho piazzate tutte e due io perché mi piacciono le bombe che si mette i punti e le kill 6-0 è andato su primo quella è l'importante no che cazzo c'entra i punti quanti ne fanno c'è ecco è uno esiste finisci di correre a me spara meglio e rotta puttana giù va gliel'ho fatto ok non so come ho fatto ma ce l'ho fatta non è stato pure promosso non so se lo rivedrò nel video perché non ho ben capito come ho fatto oh ho fatto una kill dopo l'altra mi sento un pro che meriani mi sovvivo che c'è uno che mi vuole arrivare in ma sovvivo destani 1 ma salvo ole 3 5 sto che schifo bello questo gioco lo devo riconoscere quest'anno mi sa che merda infinita subirà un duro colpo infinite sheet proprio veramente questo video non si può guardare nella campagna nel multiplayer stavolta morì si me sento realizzato poi ecco ammazzato uno e poi ma ci sono l'amico su questo è ragazzista questa la censuro se c'è un proprio lei insulta l'ho fatta bezzuta così non lo so perché scusate tanto tanto la censuro sicuramente faccio mediaset mod faccio la classifica eh vabbè lui si è contento sta primo va almeno un po' di kill l'ho fatta è finita sto secondo non ha un po' di kill per sempre 5 7 piero angelo è primo quelle super quark sicuro perché quark di 1984 l'ho visto l'ho visto e già mi ricorda me l'hai fatta vedere me ne frega un cazzo delle kill 2 carletta oh si si è un best medic io migliori decisioni 21 defila non me fa vedere un cazzo ecco eh 21 defila sono il best medic inchinatevi allo squalo con la poverella proprio io kill radio stiamo vicini e tegarle è un segno del testino vabbè questa è una bella partita per me sì e spero vi piaccia il video questa era l'open beta di battlefield 1 fateci sapere cosa vabbè pazienza me ne farò una ragione fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco che per me se essere sincero si prospetta essere molto meglio quest'anno di del code almeno per quanto sia visto magari perché io ho sempre preferito code perché è più frenetico è battlefield 4 3 si belli però mi giocava un po' così questo mi ha affascinato un po' di più anche se nonostante non sia una matte dell'ambientazione quindi ecco le armi lo trovate anche piuttosto fatte meglio bilanciate così faccio un po' di più più kill degli altri battlefield quindi è già una buona cosa per un nubo come me proprio vabbè ecco questo è tutto e adesso continueremo a nerdarci ancora un po' visto che tra poco chiuderanno i server saluta un bel salutetto carlè ciao e ci vediamo ci sentiamo al prossimo video che sarà indominate su che gioco vedo un indizio fantasmi ho notato che su sto gioco almeno per quanto riguarda sta mappa non do camminare tanto come sul 4 sul 3 già stai abbastanza vicino all'obiettivo poi col medico c'è una corsetta bella che urla come se io lo stanno afficcando il culo che cazzo se ti no il medico il personaggio del medico se premo se premo r3 tipo c'ha una corsetta un attimo corre abblenato senti proprio fa stavi allaggare i peti ho detto ho davvero un abbastrato uno dei potenziati del carro armato è troppo p è effetto è vero proprio vero c'è oddio devi essere capace a sallo eh però io che so un po' non mi sarà il culo a tutti vieni qua ma è solo merda merda non mi scappai voleva scappare no non mi asciuga vaffanculo eh giuventini 21 ho ucciso questa è giuventini c'ha l'amici giuventini 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 cappa